salve benvenuti sul mio canale o bentornati se siete nuovi io sono salvo oggi vi propongo una modifica al sonoff basic come far diventare il sonoff basic da normale interruttore a un interruttore con contatto pulito ricordate che se fate questa modifica non potete più tornare indietro e il vostro sonoff resterà per sempre modificato attenzione fatevi aiutare dal vostro installatore è possibile anche guastare il vostro sonoff basic io non mi assumo nessuna responsabilità a cosa serve questa modifica possiamo far passare diversi tipi di alimentazione di tipo 5 12 110 220 volts ma anche solo chiudere un contatto per attivare anche delle bobine delle le monostabili o contattori eccetera sì ma prima metti un like verso sopra iscriviti al mio canale tranquillo e gratis registrati al mio sito e condividi con tutti su facebook whatsapp instagram dove vuoi tu e ora anche il mio canale telegram dove vi anticiperò i miei video e non dimenticate di attivare la campanella qui sotto per sapere quando caricherò il mio prossimo video bene e ora sigla allora oggi volevo farvi vedere come possiamo modificare il nostro sonoff basic questo col contatto pulito praticamente normalmente lui ha un contatto che entra la corrente ed esce la corrente a 220 noi lo facciamo lo modifichiamo in modo che entra la corrente ma da questo contatto possiamo far uscire qualsiasi tipo di attenzione che noi interessa come potrebbe essere una 12 volts andiamo a vedere come si fa allora apriamo il nostro sonoff che già abbiamo modificato prima ok aprendo il nostro sonoff vediamo che già abbiamo fatto la nostra modifica in un video che abbiamo fatto precedente precedentemente per collegare i nostri pulsanti allora noi abbiamo da questa parte entra la corrente dall'altra parte c'è l'uscita con i due morsetti per il pulsante che è collegato al nostro pulsantino fisico ora quello che noi dobbiamo fare è andare a vedere dovremmo tagliare questa pista è questa qui perché questa vista porta la corrente di qua questa porta il neutro e questa porta la fase però senza interrompere questo pezzo quindi se lo faremo saltare questo pezzo qui la stessa cosa girandolo quindi da questa parte girandolo dovremmo far saltare questa parte qui senza toccare sempre la resistenza che si trova qua e facendo saltare sempre questo alla fine faremo una saldatura da questa parte qui dal polo del relais a questa pista che porta al nostro contatto qua dietro quindi andiamo a fare la la nostra modifica allora ci posizioniamo col col nostro con le nostre manine e andiamo a preparare per tagliare il nostro dreamer e dobbiamo far saltare questo pezzo qui quindi attiviamo a presto a presto a presto a presto a presto a presto ok ovviamente facendo questa questa operazione qui abbiamo tagliato il nostro neutro quindi qua non passerà più il nostro neutro ora andiamo a levare tutta questa parte qui sempre con il nostro dreamer e andiamo a far saltare ok abbiamo visto che questa questa pista è stata totalmente eliminata ok a questo punto saldiamo un pezzettino di filo tra qua e questo è andato e tutto ok abbiamo fatto il ponticello qui ora dobbiamo girare il nostro sonoff per modificarlo dietro ok la parte da modificare sarà qua questo qui prendiamo di nuovo il nostro dreamer e facciamo saltare la pista ok abbiamo fatto saltare tutta la pista a questo punto per essere sicuri che abbiamo fatto saltare bene la pista prendiamo il nostro saldatore e andiamo per rinforzare la resistenza così abbiamo fatto una piccola saldatura qui anche così vediamo che la pista è saltata tutta andiamo a controllare col tester quindi andiamo a controllare se c'è continuità quindi andiamo a controllare il nostro ok una volta fatto questo che abbiamo tagliato via il ponticello abbiamo tagliato il ponticello anche del neutro l'abbiamo saldato dietro abbiamo collegato ora una spina a questa alimentazione qui abbiamo collegato due fili per vedere se il contatto è restato pulito andiamo ad inserire andiamo ad inserire la corrente allora lui si accende per ora non si collega perché non è configurato con il nostro router e andiamo a inserire un polo e un altro polo sul nostro test sul nostro tester e andiamo a schiacciare il pulsantino perfetto chiude perfettamente andiamo ora a collegare una 12 volts stacchiamo la corrente facciamo funzionare questi di led a 12 volts quindi stacchiamo un polo colleghiamo il positivo in un lato nel nostro morsetto e colleghiamo il negativo del nostro il negativo del nostro alimentatore da banco da 12 volts e il positivo al ponticello quindi avviamo positivo al morsetto che una volta era a 220 e ora è un contatto pulito quindi il nostro relay diventa pulito usciamo con una quindi mettiamo una 12 volts facciamo entrare a 12 volts colleghiamo i nostri led a 12 volts e diamo sempre il negativo al nostro alimentatore accendiamo diamo corrente e accendiamo col pulsantino perfetto accende la lampadina a 12 volts quindi abbiamo fatto la modifica sul nostro relay del son off praticamente di qua prima passava la 220 ora è un contatto pulito questo può servire per fare un'apertura di una serratura elettrica particolare o anche vogliamo far funzionare un nostro interruttore e farlo scomparire completamente e quindi azionarlo solamente o da app o da attivazione vocale può far funzionare un qualsiasi cosa che non può interessare anche una bobina anche un contattore qualsiasi cosa il contatto è pulito quindi se vi è piaciuto il mio video mettete un like verso sopra registratevi al mio canale è gratis registratevi pure al mio sito e anche al mio canale telegram che trovate qua sotto in descrizione e con questo è tutto ciao e grazie grazie a tutti Grazie a tutti.